Settimana di allenamenti per le squadre del torneo d'eccellenza, turno infrasettimanale di Coppa Italia previsto mercoledì prossimo con i match di ritorno degli ottavi di finale. Il Campobasso si prepara in vista della sfida interna contro Lururi, obiettivo dare continuità al successo maturato con Lisernia e confermare la leadership del torneo. Mister Di Meo dovrebbe confermare l'undici che ha superato i bianco celesti, non dovrebbero esserci avvicendamenti anche per garantire una certa continuità. La società sta preparando con dovizia di particolari la giornata dedicata alla memoria di Michele Scorrano. Accogliamo con entusiasmo questa iniziativa che traccia un filo corrente con le radici della storia rosso-blu. Ricordare aiuta sempre, in particolare quando gli esempi sono così segnanti come nel caso del capitano storico del Campobasso. Non dimentichiamo che Michele in passato, come altre ex glorie rosso-blu, sono state messe in disparte dalle varie società che si sono succedute alla guida del Campobasso e oggi fa bene vivere un giorno interamente dedicato alla sua memoria. Lo sanno bene i tifosi che hanno intitolato autonomamente la Curva Nord al numero 2 di Ururi, in assenza purtroppo di un'intitolazione dello stadio che quasi tutti avrebbero voluto. Sorvoliamo sul quasi, non ci va di sollevare polemiche in prossimità di una giornata così bella da vivere. Sul campionato, oltre la gara di Selvapiana, si gioca in anticipo il match tra il sesto campano e la vice capolista Aurora Alto Casertano. Un banco di prova interessante per la squadra campana. I Sernia in campo domenica a Lancellotta contro il Campomarino. La squadra di De Bellis vuole riprendere la marcia. Dopo il K.O. contro il Campobasso, i bianco celesti possono ambire alla vittoria del campionato a patto di non commettere ulteriori passi falsi in un torneo dove è vietato sbagliare. Segnaliamo una bella sfida in programma al Colalillo tra il Boiano e la Virtus Gioiese. I matesini di mister Gianni Ruberto vogliono tornare al successo dopo tre stop consecutivi.